Stava scendendo con la sua moto dal passo Giao, il Centauro 51N di Gran Torto, rimasto gravemente ferito. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe perso il controllo della moto invadendo l'altra corsia e finendo contro un'auto che sopraggiungeva. Terribile l'impatto. L'uomo, immediatamente soccorso, è stato trasportato prima in ospedale a Belluno, poi trasferito a Treviso in prognosi riservata.